Le condizioni del tempo sulla nostra regione sono destinate a cambiare un po' in questo fine settimana. Nella giornata di sabato l'anticiclone sarà ancora presente sull'Italia, farà ancora da scudo, ma nei bassi strati comincerà ad affluire aria più umida da sud e quindi sentiremo un caldo decisamente più affoso. Nella giornata di domenica invece transiterà un fronte. Per quanto riguarda le previsioni per sabato avremo un cielo sereno poco nuvoloso, quindi tempo stabile al mattino, ma nel pomeriggio sarà probabile un aumento della nuvolosità, specie sulle zone interne, possibili anche già dei rovesci, dei temporali sulla zona montana, temporali che potrebbero poi interessare anche la pianura e la costa verso sera. Condizioni di temperatura ancora piuttosto alte, intorno ai 33-34 gradi. Per domenica c'è maggiore instabilità e il passaggio di un fronte sulle Alpi porterà aria un po' più fresca che tenderà a contrastare con l'umidità, un po' di vento da sud sulla costa, probabili già dei rovesci temporali, localmente anche forti e già nelle ore centrali della giornata. È una previsione ancora incerta, quindi potrebbero esserci ancora dei cambiamenti. Temperature in lieve calo, massime intorno ai 28-30 gradi. Per quanto riguarda poi la tendenza per l'inizio della prossima settimana, avremo instabilità ancora, diciamo, sia nella giornata di lunedì che martedì, arriverà aria progressivamente più fresca, saranno ancora probabili i rovesci e i temporali sparsi, specie appunto nelle zone interne, e temperature appunto che inizieranno a calare, si sentirà più fresco poi a metà della prossima settimana. Grazie a tutti.